State lottando per perdere peso e nulla di ciò che fate sembra avere effetto Ho qualcosa da dirti, non è colpa tua Salve, mi chiamo Emilia, sono una nutrizionista Ogni giorno ricevo pazienti con lo stesso problema So cosa state passando Rimanga con me fino alla fine, la aiuterò Vi dirò tutto su Ketolite in modo che possiate raggiungere il vostro obiettivo in modo sicuro e veloce Forse vi state chiedendo, cos'è Ketolite? E se funziona davvero? La risposta è sì Il Ketolite è un prodotto efficace pensato per chi desidera perdere peso senza nuocere alla propria salute Il Ketolite è stato creato per uomini e donne che desiderano perdere peso e riportare il proprio peso corporeo a livelli normali Il Ketolite contiene solo ingredienti naturali e sostituisce la dieta e le attività sportive, fungendo da integratore Il Ketolite ripulisce il tratto digestivo dalle tossine e dalle impurità tossiche, eliminandole naturalmente dall'organismo, migliorando il funzionamento del fegato, del cuore e del cervello Migliora il metabolismo Tutte le calorie che entrano nell'organismo dagli alimenti vengono convertite in energia, non in grasso corporeo Il Ketolite previene l'insorgere di attacchi di fame incontrollabili Inoltre, il prodotto rimuove l'acqua dai tessuti molli ed elimina la cellulite Se soffrite di grasso localizzato, se non avete qualità di vita a causa del vostro peso, se non riuscite a svolgere le vostre attività quotidiane senza stancarvi, se avete difficoltà a respirare a causa del vostro peso, se non potete più indossare i vostri abiti preferiti, se avete una bassa autostima, se avete provato a dimagrire senza riuscirci o se non vi sentite desiderate dal vostro partner, potete usare il Ketolite Ma attenzione, solo il Ketolite originale può fornire tutti questi benefici La grande richiesta di questo prodotto ha portato alla comparsa di molti falsi Ma il Ketolite originale si può trovare solo sul sito ufficiale del produttore e, per aiutarvi, vi lascio il link del sito ufficiale nella descrizione di questo video Spero che queste informazioni su Ketolite vi siano state utili Grazie alla sua miscela di ingredienti naturali, Ketolite è un'opzione sicura ed efficace per aiutarvi a perdere peso e migliorare la salute generale Non aspettate oltre per ottenere i risultati che desiderate Grazie a tutti! Grazie.